ben trovati anche in questa occasione per un altro incontro di pillole di yoga ed antropologia all'interno del progetto sono in movimento. Io sono Damiano e come ormai sapete sono un antropologo specializzato nel rapporto uomo-natura e ovviamente anche insegnante yoga e vi condurrò, come già ho fatto, nelle pillole precedenti, nello scoprire lo yoga e la nostra interiorità attraverso il linguaggio del mondo arboreo, quindi creando sempre una similitudine fra gli alberi e la vita umana. In particolare in questa fase conclusiva in cui abbiamo già imparato molto da quelli che sono i principi dello yoga parleremo oggi del frutto. Ogni albero che sia un albero domestico o che sia un albero selvatico produce appunto delle gemme che custodiscono i semi che verranno poi portati ovviamente a radicarsi altrove in modalità diverse, a volte grazie agli uccelli, a volte grazie agli insetti, a volte attraverso gli uomini. Abbiamo iniziato questo nostro percorso partendo dal seme e oggi invece arriviamo al frutto. Il frutto vuol dire è la restituzione, è il momento di maturità in cui appunto l'individuo consapevole riesce ad essere nel pieno delle sue facoltà, nel pieno della sua consapevolezza e inizia a redistribuire per la comunità, per coloro che avvicinano, perché il frutto è un elemento nutritivo e con la metafora di quello che è appunto un elemento nutritivo, noi possiamo riferirci a quello che è il nutrimento che la nostra esperienza di consapevolezza può restituire all'altro. Quindi oggi sarà, oggi e la prossima, il prossimo incontro saranno due incontri decisivi in cui sperimenteremo non soltanto la componente meditativa tecnica e simbolica dello yoga, ma anche alcuni aspetti tecnici in cui ci saranno anche delle difficoltà. E sta proprio lì il lavoro che io vi consiglio di fare in quanto frutto, quindi in quanto individui evoluti che sono in grado di produrre frutti di coscienza. In sanscrito, nell'antica lingua dell'India, nello yoga si diceva samskara, non samsara, sono due cose diverse. Samskara vuol dire semi della memoria. Questi semi della memoria possono avere per noi, quindi appunto la parte interna del frutto, possono avere un effetto negativo perché la memoria può custodire eventi traumatici, ad esempio, ma può portare anche con sé l'apprendimento di consapevolezza. Allora facciamo sì che questo samskara, ciò che abbiamo appreso attraverso il frutto che è il nostro raggiungimento della maturità intellettiva in un percorso di consapevolezza, diventi una testimonianza di un percorso che possiamo restituire agli altri e soprattutto alla ricerca di quello che è il non attaccamento. Il non attaccamento quando è che lo raggiungiamo? Ormai dovremmo aver capito qualcosa in queste piccole pillole? Lo raggiungiamo, come direbbe Patanjali nei suoi Yoga Sutra, quando impariamo a non attaccarci alle cose, ma quando, soprattutto quando non siamo afflitti da avidya. Avidya vuol dire in sanscrito falsa interpretazione, quindi quando siamo più vicini alla luce, alla verità. Quindi la nostra percezione da individui psicologicamente maturi, liberi da quelli che sono i samskara del trauma, perché gli elementi che conducano alla sofferenza dell'individuo e che l'individuo poi riporta portando sofferenza agli altri, sono sempre gli eventi di dolore. E l'albero maturo che produce frutti è quell'albero che non porta più dolore in questo mondo. Nella dottrina induista, ma anche in Himalaya, si usa il concetto di bodhicitta. Bodhicitta vuol dire dottrina della non sofferenza verso gli altri esseri umani. Quello che Gandhi, l'avrete sicuramente sentito, chiamava come Ainsa, la non violenza. È un principio molto simile. Quindi il frutto vuol dire gratitudine per la vita, per l'esistere e al contempo la capacità di saper riconoscere quando noi portiamo violenza all'altro e quando siamo in grado di riconoscerla e non riportarla più in questo mondo. Perché appunto il seme porta vita agli altri, non porta dolore. Quindi noi dobbiamo essere seme, frutto, dobbiamo essere bene. E allora in primis dobbiamo non essere violenza verso di noi. E quindi oggi io vi sottoporrò una pratica un pochino più complessa che potrebbe mettermi in difficoltà. E il vostro non portare violenza nella vostra vita è il momento in cui dite adesso mi fermo oppure adesso lo faccio un po' più lento. Da lì deriva la nostra consapevolezza. Perché la performance, il desiderio di rivalza, il dovere di mostrare qualcosa che non ci appartiene. È qualcosa che appartiene a un ordine esterno del nostro rapporto con gli altri malati. Quando noi siamo centrati non abbiamo bisogno di mostrare niente, soprattutto a noi stessi. E se siamo ormai pronti a produrre il nostro frutto di consapevolezza, dobbiamo sapere che la centratura sta in quello che noi, in quello in cui noi riusciamo a stare bene. Quindi se la pratica lenta, morbida, calma mi fa stare bene non vuol dire che per forza devo fare qualcosa di difficile. Io ora vi sottopongo a questa pratica per cercare di farvi evolvere sempre di più dal punto di vista tecnico. Ma questo non è importante. Il vero yogine è colui che riesce a mettersi seduto e dire adesso mi fermo a meditare. Quello è il vero yoga. Ok? E ovviamente se non riuscite a stare dietro a tutta la pratica io vi consiglio di tot in tot di mettere stop, riprovare i movimenti e poi ricominciare da capo. Inizieremo con dei saluti al sole, proprio perché il sole è un elemento fondamentale per la sintesi cloreofiliana degli alberi. ovviamente ricordate che ogni volta che vado in chiusura espiro, ogni volta che apro inspiro, 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 salgo con il braccio sinistro e la gamba sinistra, inspiro, 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 salgo, gamba destra e braccio destra, espiro, spiro, 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 Espiro, camminano i piedi verso le mani. Ardha Uttanasana, Uttanasana, Uttita, Ashtasana, Intadasana. Qui il resto. Espiro, porto alla fronte, alla bocca, al cuore e alla terra. Inspiro, guardo davanti a me. Espiro, porto il piede sinistro dietro di me. Inspiro, apro il cuore. Espiro, Adho Mukhajwanasana. Inspiro, tavola. Espiro, chaturanga, allineo i tricipiti, al busto. Inspiro, Urva Mukhajwanasana. Inspiro, gamba destra al cielo, piede al martello. Espiro, entro. Inspiro, stacco la gamba posteriore. Espiro, Uttanasana. Ardha Uttanasana. Uttanasana, espiro. Inspiro, porto tutte e due le braccia al cielo. Porto la fronte, alla bocca e al cuore. Chiudo gli occhi, resto e respiro profondo. Prendo consapevolezza attraverso il mio respiro. sempre più profondamente. Inspiro, espiro, porto alla fronte, alla bocca, al cuore e alla terra. Inspiro, espiro, gamba destra dietro. Gamba sinistra al cielo, piede al martello. Entra fra le mie mani. Uttanasana, inspiro, guarda davanti a me. Espiro, ritorno. E inspiro, riparto le braccia al cielo. Unisco i piedi. Inspiro profondo, espiro, Uttanasana. la sedia, porto le mani al cuore. Porto le mani al cuore. Inspiro, ritorno, porto al cuore. Inspiro profondo, salgo con la gamba sinistra. Espiro, tengo la mano sinistra piegata morbida. e la destra dritta, porto sempre morbida. Guardo dietro di me al sinistra. Inspiro profondo, espiro, Badrasana 3. Inspiro profondo, espiro, Badrasana 3. Inspiro profondo, respiro profondo. Molto bene. Cercate di lasciare sempre un ampio spazio. Sentite, io non sono affaticato, mai fatica. Sempre presenti totalmente al vostro respiro. Lentamente. Questa volta il piede destro che sale. Braccio destro morbido, braccio sinistro steso. Guardo dietro di me a destra. Unisco le mani. Prendi Nembrani. Guardo dietro sto Parkinson inglese a fussi. Si tratta di pazioni alla loro patte. ую lardo e la parte pass45 e il cuore. Vorrei solo per questo Greek format SPR theology. Uttanasana giù Inspiro, guardo davanti a me Chaturanga E giù Balasana Il fanciullo Dondolo un pochino Riprendo tutte le forze di cui ho bisogno E lentamente Dedico la mia attenzione al respiro profondo Riprendo consapevolezza Riprendo attenzione Riprendo presenza Terminato Questo clip, questo video Continuate il vostro Shavasana Stragliate sul vostro tappetino Cercate di dedicare, così come abbiamo aperto La vostra attenzione al Surya Quindi al sole Che è l'elemento fondamentale di crescita per la pianta E di luce Negli antichi Veda, che sono i testi fondamentali dello yoga Surya è una componente essenziale per portare luce Luce non in senso pratico, ma luce a livello chiarezza, consapevolezza Che è l'opposto di avidia, che sarebbe l'incapacità di distinguere i peiani del reale da quegli illusori della nostra razionalità e di tutti i meccanismi autosabotanti presenti nella nostra mente Vi aspetto per la prossima pillola di yoga e consapevolezza insieme Grazie a tutti Ci rivediamo con Sono in movimento Qui, con queste pillole di consapevolezza insieme Grazie e Namaste